Stefania Craxi, presidente della Commissione Esteri e del Senato, è candidata nel centrodestra nella lista di Forza Italia nel collegio uninominale di Gela per un seggio al Senato. Non si tratterebbe di una candidatura a paracadute, allorché peraltro la sua famiglia ha origini siciliane di San Fratello, in provincia di Messina. L'intervista di Gaetano Ravana. Un'avventura che parte dalla sua Sicilia, anche se dall'ultima provincia siciliana Grigento. È giusto dire che la mia Sicilia, la mia famiglia di origine siciliana sono radici che io in tutti questi anni non ho mai abbandonato né dimenticato. Sono anche cittadina onoraria di Mazzara del Vallo perché anche nel mio incarico istituzionale ho sempre mantenuto i rapporti con questa terra. Sono molto onorata, se sarò eletta, di poterla rappresentare in Parlamento. Prima dell'intervista parlavamo un po' di questa Sicilia ricca di uomini in storia, però al contempo troppo sdoganata, troppo abbandonata. La Sicilia è come una medaglia che si presenta con due facce. Da una parte un'industria avanzata, un terziario a disposizione dell'industria, un'agricoltura fiorente, ad esempio il settore viticoltore ormai con vini d'eccellenza esportati in tutto il mondo. Dall'altra una cultura tavica, una predisposizione all'assistenzialismo. Bene, queste due facce della medaglia vanno riunite perché io penso che alla Sicilia e ai siciliani non manchi niente, né coraggio, né intelligenza, né volontà di conquista. La Sicilia ha regalato all'Italia pagine di bellezza, di coraggio. Ricordiamo che da qui sono partiti i moti patriottici, esempio di tutta la penisola, uomini di cultura e insigni conosciuti in tutto il mondo. Quindi la Sicilia ce la può fare. Parlavamo anche di infrastrutture carenti, soprattutto in questa provincia. La Sicilia è questa provincia a bellezze storico-artistiche, naturali, conosciute in tutto il mondo. A queste bellezze storiche-artistiche che sono il suo tratto identitario bisogna mettere a disposizione infrastrutture e burocrazia leggera. Lei è cresciuta in una famiglia dove si mangiava pane politica da sempre. In campagna elettorale cosa pensa di aver rubato al suo compiento papà? La curiosità per le persone e il piacere di starci in mezzo.